Un imprenditore del Rossanese in provincia di Cosenza è stato denunciato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di bancarotta fradualenta documentale e distrattiva, avendo occultato ricavi per oltre 1.700.000 euro. L'inchiesta trae origine delle risultanze di un'attività di natura tributaria già avviata dai finanziari a partire dal 2015, finalizzata al controllo del corretto adempimento alle normative tributarie da parte di una società della città bizantina esercente attività di commercio di capitabigliamento. Le fiamme gialle, all'esito dell'attività ispettiva, hanno appurato che le scritture contabili erano state tenute in maniera irregolare, non essendo aggiornate dal 2010. L'imprenditore non aveva inoltre presentato le dichiarazioni dei redditi per ben quattro annualità consecutive, ossia dal 2010 al 2013, risultando quindi evasore totale e completamente sconosciuto al fisco. Sulla base di queste risultanze nei confronti dell'imprenditore, oltre che esser stato denunciato, è stato disposto anche un procedimento penale, il sequestro preventivo per equivalente sui beni nella disponibilità del denunciato al fine di tutelare la pretesa erariale. Gli ulteriori approfondimenti investigativi richiesti dalle fiamme gialle hanno consentito di appurare che l'uomo nel frattempo era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Castrovillere e che erano state sottratte alla procedura del fallimento merci acquistate per 1.700.000 euro. I finanziari infatti sono stati in grado di accertare che le rimanenze di magazzino costituite dai capi di abbigliamento erano state distratte attraverso vendite in nero in danno ai creditori della società fallita, per cui come previsto dal codice penale, l'imprenditore è stato quindi denunciato per il reato di bancarotta fraudolenta. Il reato societario prevede la pena della reclusione fino a un massimo di 10 anni.